. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, foto e dettagli della vacanza in montagna con Santiago. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno ancora insieme. . Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Stefano De Martino e la nuova fidanzata Gilda Ambrosio. Dopo la presunta crisi raccontata dai medi qualche mese fa, la coppia ha trascorso il capodanno insieme. . Con i due pure Santiago, il figlio che il ballerino di Amici ha avuto quattro anni fa dall'ex moglie Belen Rodriguez. . Durante le festività natalizie, come racconta il settimanale Chi, la stilista napoletana ha conosciuto il figlio del fidanzato. . Stefano e Gilda non erano però soli con il bambino, con loro c'era anche Adelaide De Martino, sorella del nuovo inviato dell'Isola dei Famosi, e un gruppo di amici. . . Come svela la rivista diretta da Alfonso Signorini, De Martino e Lambrosio si sono mostrati complici e uniti ma hanno accuratamente evitato di baciarsi il pubblico, sia in discoteca sia sulle piste da Scini. . . L'ultima vacanza insieme prima dell'Isola dei Famosi. . Quella ast.Moriz è stata l'ultima vacanza per Stefano De Martino e Gilda prima di una lunga lontananza. . . L'ex marito di Belen è infatti in partenza per Londoras, dove sarà l'inviato della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. . 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